Ha ragione Berlusconi nel dire che è un disastro se Roma finisce a mani 5 stelle? Ma al momento mi sembra che un disastro sia la gestione del suo centrodestra, dove ci sono politici che stanno lottando per la leadership sulle spalle dei cittadini romani, tanto più grave quanto uno di questi è, una di questi è proprio una, si definisce romana doc. Quindi pensassi ai problemi che hai in casa e ci lasci amministrare la città, i romani sono pronti.